...da vantare, ma perché altra agricoltura conosce il comitato per la difesa delle regioni che è al tempo stesso un comitato di cittadini ma anche di associazioni in base ai discriminanti molto rigide che sono attive, non siamo solo noi, ci sono alcuni, ci sono una serie di altre realtà che sono dentro la partita e quindi intervengo stamattina con la stessa io sono Sergio Sambi, sono la depostanza del comitato di un intervento e dell'associazione Europa Potecaria, lei è il presidente del comitato e il presidente dell'associazione Mauro, è il nostro palazzo di figura con la storta, praticamente noi rappresentiamo l'insieme dei comitati della nostra...